uno dei pilastri dell'ostrismo come camaleontismo dell'inopportunità, comunque sempre noi scegliamo di far parte, di prendere una posizione scomoda. Certo, siamo comunque un'avanguardia. Ma è comodo adesso oggi, nel 2019, fare quelli contro le multinazionali, perché le multinazionali hanno fatto vedere anche i lati più oscuri del loro dominio, quindi oggi è una battaglia facile. Arrivate tardi ragazzi. Esatto, mentre dire no, vediamo però se c'è anche qualcosa da salvare, vediamo se c'è anche qualcosa di nostro in tutto ciò. Ti faccio un esempio di una cosa che apprezzo, una multinazionale che apprezzo. Tu oggi apri Instagram e sei soprafatto da vergognose immagini di cibo storytellizzato. Tu, apri anche tu Instagram e ti trovi quelle fettazze di mortadella con la burrata e i pistacchio o è solo un problema del mio Instagram? No, 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 è proprio una politica... È una policy proprio. Sì, sì, sì. Ecco, io per esempio, da che ho Instagram, la mortadella non la posso più vedere, no? Perché mi è andata proprio veramente a vomito con tutta questa sovraesposizione. A fronte di queste cose qua e di tutta la narrazione sul cibino di qualità del ristorantino storytellizzato con gli ingredienti antichi, viva il McDonald's, possiamo dirlo? A tutta la vita, ma tutta la vita. Dove la ricercatezza, no? E dove la fusione con l'origine, no? Diventa un elemento di snobismo, un elemento di elitarismo. Di sofisticazione. Sì, una ricerca, comunque un ipsterume, diciamo, come le cose come stanno, no? E invece il bel panino egualitario del McDonald's... Che bello. ...e spattuto questa carta, capito? Quella è l'uguaglianza, capisci? Con quel buon odore di carne uguale per tutti. Uguale per tutti, stessa dimensione, arrivi, la cordialità dell'addetto al McDrive che ti piazza questo sacchetto maladorante in macchina e poi tu c'hai il tuo panino, c'hai la tua Coca-Cola e stai bene, sei nella tua comfort zone. Guarda, io ogni volta che mangio da McDonald's mi sembra di essere a casa e me ne vanto, cioè il posto di andare magari... ecco, io vado, io adesso ho un periodo in cui ce l'ho con la piccola impresa, perché a volte mi capita di andare... sì, ce l'ho con le piccole imprese, veramente, io vorrei... ecco, torniamo al discorso delle multinazionali, io dico, non ci sono più le industrie di Stato, i combinat, e allora che siano combinat privati, viva le multinazionali, perché ti dico, a volte mi capita di andare in dei ristorantini gestiti così da gente, scortesia, snobismo, antipatia talvolta anche verso il cliente che magari viene a mangiare da solo con la ragazza e non con le commitive. Cioè, questo familiarismo imposto che non ti ho mai chiesto, preferisco piuttosto una bella commessa del McDonald's che non ho mai visto in vita mia e che la volta dopo magari neanche rivedrò perché ce ne saranno altre dieci, giusto, con quella bella fettazza di carne, sempre uguale, rassicurante poi, non è come quando vai ad altri posti che dici ho mangiato bene sto giro, chissà st'altra volta. No, perché sei già quello che ti aspetta. E lì sei sempre quello... ecco, allora io dico, viva o il McDonald's o anche i sushi wok che sono anche quelli con il nostrismo apprezzabile e romantico della donna cinese, giapponese che vorrei sposare. Chiaro, qui rientra diciamo il filo asiatismo, l'eurasiatismo del sushi. Sì, sì, assolutamente e anche di Tinder, e anche di Tinder. E beh lì già approfondiamo con il buon Beppi al tempo. Certo. Ti chiedo anche un'altra cosa sul rapporto cibo-comunicazione-ipsterume. Non hai anche tu in malsopportazione questo culto della cultura per la cultura, le varie trasmissioni, Superquark, questo culto di Alberto Angel, questo culto della lettura per la lettura, come se poi il riempirsi di pagine librarie rappresenti veramente la salvezza a prescindere per l'uomo e non cambi invece da individuo ad individuo. Ti dico, ci sono, a mio avviso, ci sono persone che leggono un manuale sul funzionamento dello scovetto del cesso e ne ricavano molta più utilità e molto più stimolo neuronale di altre persone che passano un mese a leggere 40 libri e ci ricavano le solite frasi fatte. Cosa mi dici? Ma assolutamente, ma a parte che diciamo che la divulgazione degli Angelas è abbastanza anche scarna, è proprio cultura per la cultura, è detto bene. Poi c'è questa elevazione, come se una mancanza di rispetto verso il resto del palissesto, anche questo snobismo verso tutto il resto che offre una rete, dice no, noi guardiamo Angela e non guardiamo Temptation Island, capito? Questa contrapposizione, questo disprezzo sempre per il volgo, no? Certo, sì, che poi quello che guarda Temptation Island deve essere per forza un sempliciotto. Esatto, quindi non c'è nulla di più in realtà, non sempliciotto, perché la semplicità è anche una qualità, non c'è nulla di più fasullo della falsa cultura, della cultura per la cultura, come ho detto giustamente. Sì, sì, guarda, sono d'accordissimo, è diventato uno status, capisco, capito? Cioè, una volta, quando non c'era questa contrapposizione feticia tra popolo, analfabeti funzionali, colti, acculturati, guardavi Alberto Angela come guardavi Derrick, per esempio, no? Adesso è diventato uno status. Sì, 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 no, scusami. No, dico sì, adesso è diventato uno status veramente incomprensibile e piuttosto mi guardo, boh, mi guardo Temptation Island anch'io, sebbene non la guardi, la guardo col cuore. La guardiamo ideologicamente, anche se non abbiamo mai visto una puntata, noi sposiamo Temptation Island. Sì, e se mi fermano per strada e mi dicono ti piace Temptation Island, oggi dirò di sì, anche se non abbiamo mai visto una puntata. Ma certo, ma tutto quello che crea imbarazzo nella comunità pseudo-intellettuale è da appoggiare criticamente. Sì, 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 assolutamente. Tutto quello che crea comunque repulsione nel culturame è qualcosa che noi apprezziamo e bolliamo con la crisobolla del nostrismo, insomma, questo sicuramente sì. poi anche questo scollamento, ok, tra classi popolari e presunta elite colta che si avvale proprio dello strumento della cultura per la cultura per celare poi un qualcosa che alla fin fine non è una vera e propria illuminazione intellettuale, ma è alienazione talvolta spesso, no? Ma certo. Alienazione dalla vita comune, dal comune sentire del cittadino? Assolutamente, ma anche perché voglio dire, al di là poi, allora parliamo, per tornare su Alberto Angelo eccetera, dunque visione resta uno strumento principalmente di, diciamo, intrattenimento, no? Sì. Quindi ho la necessità di elevare per forza l'intrattenimento, è una perversione tutta contemporanea, ma perché? Ma se io mi voglio rilassare, se io non voglio pensare a nulla in quel momento, perché devo sentirmi inferiore, devo sentirmi giudicato da qualcuno che decide di fissarsi con queste trasmissioni pseudocolte. Sì, esatto, che poi voglio dire, c'è anche un diritto a relax, voglio dire, specie quando magari, assolutamente, guarda, sono completamente d'accordo, vogliamo fare... Viva gli anni Ottanta, viva il riflusso! Esatto, viva i baby boomers anche, soprattutto che sono la nostra classe di riferimento. Certo. Vogliamo fare una riflessione sul fatto che chi non apprezza Achille Lauro non può apprezzare noi? Assolutamente. Achille Lauro è... Allora, è un test da fare. Allora, Achille Lauro è una sorta di cartina tornasole. Certo. Se viene fallito il test Achille Lauro, non è possibile creare nessun tipo di legame. Sì, assolutamente. Sì, è un'utile cartina tornasole, specialmente per quelle applicazioni di messaggistica istantanea di cui parlavamo prima, nel quale magari devi conoscere una ragazza che appendono i suoi gusti. La cosa migliore è mettere o una citazione o una foto di Achille Lauro, perché se piace hai comunque un'affinità estetica che sai che funziona. Se non piace, capisci già con chi è a che fare. Chi sa cogliere la genialità di Achille Lauro può apprezzare anche un rapporto di un certo tipo che va anche a toccare certe corde non banali. Chi invece etichetta Achille Lauro come un esercizio di retorica fine a se stesso non tocca quella corda che ci fa innamorare. La trap è il nostro guarda, possiamo dire che così chiudiamo il cerchio, così come è morto lo Stato e sono nate le multinazionali, sono morti i CCCP ed è nata la trap e noi la apprezziamo. Assolutamente, assolutamente ti dirò di più. Io non ho mai ascoltato rap in vita mia, sono passato direttamente alla trap. Ah ecco, il tuo è un futurismo ancora maggiore, io ho fatto il passaggio intermedio e ti invidio perché avrei voluto provare l'emozione del passare dal Britpop alla trap, così deve essere molto bello. Assolutamente, io sono passato dal Britpop alla trap. Se su Tinder trovi una ragazza con la foto di Alberto Angela cosa fai? Allora, faccio la compatibilità, faccio il match e poi faccio apposta scrivergli con errori di ortografia nella chat, la farò impazzita. Esatto, tipo I con l'H, beh assolutamente, è una cosa giusta, è una cosa giusta. Con un super like anche arrogante, quello con la stella azzurra. Super like chiaramente intromissorio, senza rispetto. Proprio pam, esatto, condivido. Va bene, grazie Francesco. Ma io che sono così colta, sofisticata, piaccio a questo analfabeto funzionale. Poi si fanno gli esami, è vero. Sì. Crede, crede di aver fallito in qualcosa. Antenismo come non nostrismo. Io ti dico, se parliamo di conoscenza, adesso mi hai fomentato, se parliamo di conoscenza, ti pongo questo quesito, ma sarà più apprezzabile il lavoro culturale di un Roberto Giacobbo che comunque esplora ambiti non ancora sondati o la banale ripetizione del già saputo dell'angelismo imperante. Preferisco il gran lavoro di un Roberto Giacobbo. Ma è la differenza che c'è tra un nuotatore in piscina ed un marinaio che esplora oceani sconfinati. Esatto, come il libro di Joseph Conrad, che tra l'altro ha anche qua la linea d'ombra. Lo consigliamo? Assolutamente. Grande Joseph Conrad. Guarda, sono completamente d'accordo. Beh, direi che abbiamo citato Achille Lauro, Joseph Conrad, abbiamo citato Nietzsche, il McDonald's. Direi che abbiamo fatto un bel giro. Beh, potremmo fare un bel cenacolo antifilosofico e antiletterario in un McDonald's da riproporre dal vivo. Facciamo il giro dei McDonald's magari del settentrione italiano. Sarebbe meraviglioso. Anche il McDrive mi piace molto. Molto, sì. Magari aspettiamo che venga fuori qualche bel menù di quelli nuovi, tipo quel panino. Il Chicken Premier, quello con la salsa al pomodoro. Ci sono cose, perché anche lì è un esperimento. Cioè, il McDonald's non chiude le porte alla sperimentazione. No. È sempre un elemento di brivido e di imprevedibilità. Ma certo, poi lega. Poi, anche lì, per esempio, mi ricordo quando aveva fatto quella serie di Panini in collaborazione con anche le... Non voglio usare questa parola, però usiamola. Tanto è stata talmente sdoganata che ha fatto il giro e è diventata nostra. Aveva fatto quella partnership con le eccellenze del territorio, no? Ma... Sì, sì. Eh, ma non l'ha fatto con quella narrazione snobistica che vedi la pubblicità del tipo che annusa il formaggio. L'ha fatto in modo molto simpatico, molto giovanile, no? Ma sì, ma perché si sono sentiti nell'occhio del ciclone che dicono sempre ma fate del cibo scadente, eccetera. Ma no, dai, valorizziamo anche un po', no? Però in modo divertente, ha detto giustamente. Ma certo, ma poi voglio dire, il cibo scadente è rassicurante. Eh, diciamo, sì. Fa parte di una comfort zone che ci fa sentire bene. Cioè, anche tutte queste cose qua. Allora, io ho un'impressione, questa perenne ricerca dell'eccellenza alimentare, dell'andare a mangiare la bistecca solo in un modo, la pizza solo in quello, a parte che ti vai a... è un attacco, la sofisticazione del rito, e mi riferisco anche alla pizza, è un attacco alla tradizione, è un attacco alle sicurezze della famiglia inteso come nucleo economico primario. Perché se tu pensi, no? Pensa alla classica famiglia, che ne so, friulana, che il sabato sera va a mangiare la pizza, la pizza come la fanno in Friuli, e trova in questo tipo di rito, antropologicamente parlando, anche un motivo di sussistenza e di felicità. Tutto sto storytelling sul cibo d'eccellenza crea insoddisfazione nel nucleo primario e crea un sentimento di smarrimento. Quindi va combattuto come strumento antiproletario, come pratica antiproletaria lo storytelling alimentare. Perché poi magari quella stessa famiglia non può permettersi la pizza napoletana fatta con la glutinizzazione della pizza e della crosta, e crea dello scompenso. Ma sì, è sicuramente una nevrosi questa dell'eccellenza a tutti i costi gastronomica, ma ti dico, alla fine certi riti sono belli, anche al di là della qualità del cibo in sé, sono belli perché sono di tutti, sono belli perché fai comunità, perché fai il convivio, perché sono accessibili. Sì, sono accessibili, creano comunque un certo tipo di condivisione, di bellezza, del mangiare, dello stare insieme. Quindi voglio dire, alla fine perché andare a rovinare un'atmosfera così piacevole, così bella? Esatto, veramente se sono, guarda, in una società comunque decadente, ma anche la decadenza ha un suo fascino. Anzi, noi la decadenza seliniana, comunque la facciamo nostra, la apprezziamo come poche altre cose al mondo, però quella era una decadenza barricata, tra virgolette, barricata nel senso di invecchiata e sulle barricate. Questa decadenza qui è una decadenza senza pelo, una decadenza in pubertà, mi verrebbe da dire, la pizza e la comunicazione, il culturame. Stiamo, stiamo, diciamo, crescendo o decrescendo, o decrescendo o crescendo, è una cosa incomprensibile. Eh sì. Unico rifugio la trap. Va bene, amici. Ciao Francesco e ti ringrazio per questo appuntamento. Ciao ragazzi. Io da noi, sempre. Sempre.